Devo fare un video sul modulo Arduino di SID Studio che è davvero molto interessante ma non mi ricordo dov'è. Angela, avete visto il modulo di Arduino di SID Studio che non lo trovo? Quale? Lo ZIAO RP2040 abbassato sul processore Raspberry Dual Core e Form Factor da francobollo? Che gli sperare sono sempre io. Dobbiamo parlare di questa cosa nel leggere il pensiero. Insomma sai dov'è? È sotto il replicatore termico. Replicatore termico? Dove? Sì, il generatore funzionale. Cioè noi abbiamo un generatore funzionale? Ma gli alini ti hanno riportato il dito subito eh? Eccolo, era facile. Ma non è che hanno fatto degli esperimenti su di te gli alini metterli via? Ah ah, prego tesoro. Grazie. Non si fa che si porta il dito subito. Ciao e benvenuti. In questo video tornerò a parlarvi dell'ambiente Arduino, in particolare di un dispositivo davvero molto interessante che può tornare molto utile in tante applicazioni in cui la dimensione dell'hardware deve essere davvero compatta e in particolare si tratta di un dispositivo dà le dimensioni davvero lilipuziane. Qui lo vedete già montato con le strip line, cosa che potrebbe farne tranquillamente a meno. Io le ho utilizzate per fare delle prove. Infatti dopo una brevissima presentazione di questo dispositivo vi mostrerò all'atto pratico come programmarlo, come impostare tutto l'ambiente di sviluppo Arduino per realizzare un semplice progetto. Io vi mostrerò un progetto di prova, ma in questa maniera voi avrete la possibilità di conoscere tutte le procedure, tutti i passi per arrivare a programmarlo. Ma adesso andiamo a scoprire più in dettaglio questo dispositivo. Infatti Seed Studio ha realizzato questa base con processore RP2040 che, per chi non lo conosce, è lo stesso processore che viene utilizzato su Raspberry Pico. Si tratta di un processore molto potente dual core che funziona con una frequenza di 133 MHz. Quindi abbiamo la possibilità di sviluppare i nostri progetti basandoci su una potenza di computazione molto elevata. Inoltre la memoria flash che ospiterà il nostro software è di 2 MB, quindi dimensioni importanti, per la categoria ovviamente, e abbiamo fino a 264 KB di memoria per la memoria appunto per le nostre variabili di appoggio, insomma per i nostri progetti. Come avrete notato le dimensioni di questo dispositivo sono davvero da record, infatti è davvero super compatto. E ovviamente queste dimensioni, per conservare la possibilità di avere delle strip line di passo standard, quindi di passo integrato, non ci consentono di avere tantissimi ingressi e uscite a disposizione, ma sono sufficienti per la maggior parte delle applicazioni. Infatti abbiamo fino a 11 ingressi e uscite digitali, 4 analogici, in realtà sono tre veri, poiché uno è dedicato alla misura della temperatura e praticamente tutti gli ingressi e le uscite sono utilizzabili generando un segnale PVM. Inoltre non mancano su ingressi e uscite che abbiamo a disposizione anche i protocolli di comunicazione hardware, SPI, i4C e UART. Vi ricordo che questo sistema si basa su un'alimentazione di 3,3 volt, quindi tutti i digitali ingressi in uscita non possono superare i 3,3 volt, quindi se abbiamo delle applicazioni che si basano su 5 volt, abbiamo la necessità di utilizzare dei convertitori di livello logico. Inoltre non mancano due tasti funzione qui sulla parte superiore, ovvero il tasto di reset per risettare appunto il dispositivo e tasto di boot che ci tornerà utile nel caso volessimo sostituire firmware all'interno del dispositivo. E per finire, se il studio ha completato questo sistema con alcuni led di funzione ed esattamente un led per l'utente, quindi per avere la possibilità di fare delle prove al volo, un led di alimentazione che si accenderà appunto quando il sistema sarà alimentato e due led per la comunicazione seriale. Ma la chicca è il led che si trova qui al centro tra i due tasti, ovvero è un led RGB, la possibilità di appunto di utilizzare questo led per fare delle applicazioni al volo senza dover necessariamente aggiungere dell'altra componentistica aggiuntiva. E per chi se lo stesse chiedendo quali sono le dimensioni di questo dispositivo parliamo di 20 mm x 17,5 mm, quindi è davvero molto molto compatto, lo ripeterò ancora perché forse in video non si ha davvero la percezione, ma è davvero piccolo. Sulla mia unghia praticamente è grande quanto la mia unghia, è davvero piccolissimo. Gli ambienti di sviluppo disponibili per questo dispositivo sono Arduino ovviamente e MicroPython e CircuitPython, quindi abbiamo una discreta scelta per programmare il nostro progetto tramite la porta USB-C. Infatti questo dispositivo è dotato di porta USB-C, quindi con cavetto normalissimo USB-C è possibile collegarlo al nostro PC per scaricare il nostro programma. Un'altra particolarità di questo dispositivo è che tutti i componenti sono alloggiati sulla parte superiore, mentre sulla parte inferiore praticamente abbiamo solamente i pad, abbiamo questi due pad che servono a collegare un'eventuale batteria, nel caso volessimo farlo funzionare a batteria, e abbiamo alcuni pad di test, ma non ci sono praticamente componenti. Questo ci dà la possibilità di montare il dispositivo su un PCB più grande per mantenere le dimensioni del sistema finale molto contenute. Come promesso all'inizio del video vi mostrerò come impostare tutto l'ambiente di sviluppo Arduino per programmare questo dispositivo, quindi adesso andiamo al PC per vedere tutte le fasi, ma prima vi raccomando di lasciare un bel like se questo video vi sarà piaciuto o vi sarà utile, iscrivervi al canale per supportare il canale stesso e attivare la campanellina per non perdere i prossimi contenuti che vi proporrò sul mio canale YouTube. E nelle descrizioni, oltre a tutti i link relativi a questo video, al dispositivo di sito studio, il link ai miei social e vi invito a seguirmi anche lì, perché anche lì vi proporrò tanti contenuti legati sempre ai video di YouTube, troverete anche un link nel caso volete supportare il mio lavoro e quindi il canale in maniera più concreta, come anche l'iscrizione che per voi praticamente non cambia nulla, per me cambia moltissimo, perché in questo modo mi darete la possibilità di proporvi sempre più contenuti e sempre di migliore qualità. Adesso basta chiacchiere, passiamo alla parte più interessante del video, andiamo a vedere come funziona questo dispositivo, vi proporrò una demo semplicissima, così non andiamo a complicarci la vita, con questo display OLED. Si tratta di display OLED comunissimo che si controlla tramite il protocollo I4C, e quindi abbiamo appunto sul nostro XI RP2040 anche la possibilità di controllare periferiche I4C direttamente in hardware, ovviamente. Qui abbiamo la zip line su cui collegare questo cavetto, anche questo si trova facilmente su Amazon, e troverete tutti i link qui nelle descrizioni, troverete praticamente tutto. E adesso qui al display vi mostrerò quali sono i quattro collegamenti da fare dal display OLED al modulo Arduino, e passiamo al PC per la programmazione. Ed eccoci al PC, qui sulla mia destra ho approntato il setup molto semplice, costituito dall'Arduino, il cavetto di collegamento e il display OLED, e come ho fatto prima vi mostro qui a monitor quali sono i quattro collegamenti per appunto collegare l'Arduino al display. Ho bloccato il tutto con del nastro adesivo per evitare che se ne vada in giro, e l'unica cosa che ci servirà, oltre tutto questo, è un cavetto USB-USB-C per collegare il nostro Arduino al PC. Vi suggerisco, prima di collegare il modulo Arduino al PC, di andare a caricare le librerie nell'ambiente di sviluppo Arduino, in modo che quando Windows andrà a installare il driver di comunicazione del modulo Arduino, farà molta meno fatica, sarà tutto molto più semplice. Ovviamente per fare questo è necessario che nel PC sia già installato l'ambiente di sviluppo Arduino, e se non lo sapete fare, vi rimando ai video precedenti in cui parlo appunto di questi sistemi Arduino e delle programmazioni, dove spiego in maniera molto più in dettaglio come si fa. Comunque vi lascio qui nelle descrizioni qualche link che vi tornerà utile, per andare a vedere dei miei vecchi video dove appunto tratto questi argomenti in maniera più specifica. E rispondo a una domanda che mi è stata posta da alcuni di voi. Quando andate a scaricare l'ambiente di sviluppo Arduino dal sito di Arduino, quello ufficiale, a un certo punto vi chiederanno un pagamento. In realtà c'è scritto che è una donazione, però lo mettono in modo che sembra che sia necessario. In realtà il sistema di sviluppo Arduino è gratuito e quella che vi chiedono è una donazione. Basta schippare quella pagina e vedrete che partirà il download del pacchetto di installazione di Arduino. Per installare nell'ambiente Arduino le necessarie librerie per lavorare su questo modulo Arduino, dobbiamo andare nella sezione File, Impostazioni, quindi aprire ovviamente l'ambiente Arduino, e qui dove c'è la sezione URL aggiuntive per gestore schede. In questa sezione, schiacciando questo tasto, è possibile aprire questa finestra più comoda per vedere tutte le righe installate, bisogna aggiungere questa stringa, questa stringa che appunto ho evidenziato, ve la lascio anche nelle descrizioni così vi sarà più facile recuperarla. Una volta cliccato su OK e ancora su OK su Impostazioni, bisogna andare in Strumenti e esattamente in Gestori Schede della sezione Schede. Quello che interessa a noi è dove c'è scritto SID XAORP2040. Non vi potete sbagliare, io ovviamente già l'ho installato, nel caso vostro avrete qui sulla destra il tasto installa, voi schiacciate il tasto installa, si installerà e questa fase è completata. Una volta completata questa fase, si clicca sul tasto chiudi e saremo pronti a collegare il nostro Arduino al PC. Con il cavetto di cui vi parlavo prima, faccio il collegamento adesso per voi. La prima volta che farete il collegamento tra l'Arduino e il PC, ovviamente Windows dovrà andare a installare tutti i driver. Ma questo accade solo la prima volta, le successive volte Windows lo riconoscerà automaticamente. Vedremo che si accende il LED rosso, che è il LED relativo all'informazione che ha alimentato, il sistema sta funzionando. Le ultime configurazioni da fare nell'ambiente Arduino per lavorare su questo particolare modulo di SID Studio, si trovano gli strumenti, dobbiamo andare su schede e selezionare sotto la voce SID RP2040 Board il nostro SID Studio XAO RP2040. E poi successivamente troveremo nella sezione porta, la porta relativa appunto al nostro modulo. Quindi come l'ha riconosciuto Windows? La selezioniamo e abbiamo fatto tutto. A questo punto siamo pronti a scrivere il nostro software e caricarlo nella memoria del modulo. Io per fare un esempio ho recuperato un esempio che si trova facilmente anche su internet con le dovute modifiche per adattarlo a questo modulo specifico. Una piccola ma importantissima nota di cui vi voglio parlare è che nella prima installazione, solo per la prima volta in cui andrete a collegare l'Arduino al PC, è che praticamente non tutti i driver andranno installati correttamente. Solo per la prima volta bisogna andare in questo indirizzo, praticamente c user nome utente, il vostro nome utente, qui c'è scritto Claudio, ma nel caso ci sarà Giuseppe, Giovanni, insomma quello che avrete voi, AppData, Local, Arduino 15, Package, Seduino, Hardware, RP2040, 2.7.2. In questa cartella troverete un file che si chiama post underscore install punto bat, comunque a monitor vi sto mostrando tutto, avviate questo batch. Questo batch andrà a installare tutti i driver correttamente e andrà fatto solo una volta, solo all'inizio, nel caso soprattutto da dovesti avere problemi e poi da questo punto in poi non ci saranno più difficoltà nel riconoscimento del modulo da parte di Windows. Detto questo passiamo alla nostra demo, vediamo questo modulo come funziona, che è un modulo sottutilizzato, ma mi serve per mostrarvi tutti i pasti per arrivare a programmarlo, così sarete autonomi con i vostri progetti. Già ce l'ho pronto a monitor, mi limiterò a schiacciare il tasto carica, quindi partirà la procedura di caricamento. Adesso sta compilando, sto compilando lo sketch, aspettiamo un po', perché ci mette un po', qui abbiamo la barra di caricamento, qui sulla destra, ci metterà un po' per caricare. Ed ecco che lo sta caricando in questo momento. 100% non è necessario interagire con il modulo Arduino, non ci sono tasti da schiacciare per avviare il boot, è tutto automatico. Lo sketch è stato caricato all'interno della memoria dell'Arduino, adesso mi limito a fare il collegamento di alimentazione sul display e a resettare l'Arduino, in modo che resetti anche il display e parte il demo di cui vi parlavo. È un demo semplicissimo, mostra le potenzialità del display fondamentalmente, ma in questo modo abbiamo anche la possibilità di vedere come funziona l'Arduino. E soprattutto vi ho mostrato tutti gli step per arrivare dalla configurazione dell'ambiente di Arduino alla programmazione dello sketch nella memoria appunto del modulo. Come al solito vi invito a lasciare un bel like se il video vi è piaciuto o vi sarà utile di condividerlo e iscrivervi al canale stesso attivando la campanellina per avere le prossime notifiche dei prossimi video che caricherò. Nelle descrizioni troverete tutti i link relativi a questo video, al prodotto, ai link ai miei social, quindi seguitemi anche appunto su Facebook e Instagram. I commenti sono sempre a vostra disposizione per fare domande alla community, a me vi risponderò sempre con molto piacere. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!